Ciao a tutti stramordi e benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre di questione e oggi siamo tornati in un bellissimo We have a monthly favorites di gennaio dove vi dico tutto quello che ho visto, letto, giocato, insomma una cosa più importante, le news del mese vi consiglio di recuperarvi gli altri We have a monthly favorites e anche di seguirmi ovviamente su Instagram e su Facebook per rimanere aggiornati e seguirmi in tempo ancora più live detto questo direi di partire con le news perché ho tante cose da dire, non proprio di news però ho tante cose da dire allora è uscito Dolce Flirt con Lisandro e io non lo porterò perché Lisandro non mi piace come ragazzo però porterò se esce e se posso ovviamente quello con Armin che io sinceramente preferisco Armin e se non ci sono problemi come ci sono stati per vita di coppia con i gameplay vedo se riesco a portarlo perché mi emoziona tantissimo e seconda cosa oggi ho fatto i test, i quiz della patente e sono stata promossa a causare errori io non vedo l'ora ed è il momento di festeggiare insieme io ho qui una mostra rossa e molto natalizia devo dire ora l'apriamo insieme e l'assaggiamo insieme così per festeggiare mi sono detta io se passo il quiz siccome la motorizzazione era nel centro della città mia e c'era il negozio che vende le mostre a 1,50 euro ho detto ok allora apriamo a questa rossa ultra red sinceramente io non so che sapore abbia ok ok è rossa non so come farvela vedere prendiamo una cannuccia e assaggiamo allora è tipo fragola però non quella fragola fastidiosa di tante bibite cioè quella fragola comunque è buona 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 mi piace cioè ok io sinceramente preferisco la Mangoloco però anche questa non è brutta insomma me la berrò festeggiando con molta calma passando a ciò che ho visto vi inizio subito con due anime che ho scordato di dire il mese scorso proprio mi è passato di mente uno è la prima parte di Stone Ocean sapete tantissimo che a me piace Jojo quindi anche questa stagione mi sta piacendo tantissimo non c'è bisogno di dirlo l'ho vista in italiano e mi fa un sacco ridere ogni volta che sento parlare Hermes Costello perché ha la stessa voce di Sam Packet e la cosa mi fa morire da ridere e l'altro è Tsukito Laika che è un anime incentrato sullo spazio però tipo nel dopoguerra capito quindi è un po' più retro diciamo che è probabilmente un anime che non avrei visto se non fosse che la protagonista era una vampira quindi mi intrigava questo doppio aspetto però non l'avrei visto probabilmente in più vi ricordo che di ogni anime che vedo c'è la recensione su Wattpad che trovate sempre nella descrizione quindi se volete ci passate poi ho visto Shang-Chi che è un film che io vi giuro ho adorato è perfettamente trash è proprio quel trash da film di arti marziali cinese e giapponese misto a un pizzichino di Bollywood con alcune inquadrature proprio a rallentatore proprio bollywoodiane io vi giuro ho adorato questo film mi è piaciuto tantissimo come pochi film della Marvel mi sono piaciuti ultimamente praticamente mi ha lasciato proprio felice felicissima e un altro film è stato anche Dracula quello su Netflix praticamente sì ok mi è piaciuto il film è tutto bello, è tutto ok ma io vi giuro non facevo non mi si toglieva dalla mente per tutto il film che l'attore che faceva Dracula vi giuro è uguale al mio istruttore di scuola guida vi giuro ha la stessa faccia io lo guardavo e facevo ciao Roberto aiuto segue poi la Quoca di Castamar sempre come serie tv storica diciamo che non è a livelli di di Versailles ovviamente certo alla sua parte non avevo capito per i primi almeno 6-7 episodi che fosse ambientata in Spagna sinceramente proprio non l'avevo capito diciamo che mi interessavano più gli inciucci fra nobili rispetto alla parte della cucina perché le parti della cucina con la Quoca un pochino erano cringe sembravano una pubblicità della Barilla vi giuro già nel primo episodio c'è proprio una scena che voi dite sì ok nella pubblicità della Barilla e con alcuni punti che mi hanno fatto ridere molto tradici ma che in realtà mi hanno fatto ridere tipo l'episodio 6 mi ha fatto molto ridere sono una cattiva persona mi ha fatto molto ridere però nel complesso c'è godibile ora passiamo a lui a Incanto come avrete potuto intuire nei due anni che ho fatto tv a Monthly Favorites non è che io sia una grande guardatrice di film Disney forse l'ultimo che ho visto è stato Frozen 2 quando è uscito per capire se Olaf si era finalmente squagliato o qualche rewatch di qualche film più vecchio tipo Atlantis probabilmente Atlantis è della Disney? Comunque non sono una big fan che faccio devo dire che come film l'ho trovato proprio tossico c'è uno di quei film tossici che cose così mi sono capitate qualche anime shoujo che vabbè gli anime shoujo sono tossicissimi già di loro però c'è davvero davvero troppo io sono rimasta molto allucinata sinceramente soprattutto un film concepito ok per bambini ok molto molto vasto questo concetto ma un film che comunque i genitori porteranno a fare vedere i loro figli che ti insegna queste cose comunque non ti insegna nulla ti insegna ok è una famiglia tossica sorridigli e vogliela bene diciamo che io lo trovo sbagliatissimo sinceramente io sono abbastanza grande da capire che questi sinceramente non sono comportamenti e situazioni da affrontare in quel modo non penso che un bambino possa farlo comunque secondo me è un film tossicissimo tutti ok va bene l'animazione è bellissima potrà avere disegni super wow le cose super fluide la manina che tu la vedi così e puoi vedere ogni singolo secondo che passa i peli del culo che ti si vedono in controluce così le canzoni va bene bellissime si ok però non c'è la ciccia cioè la ciccia non va bene anche i musical hanno la ciccia anche cenerentola di prime video aveva la ciccia ed era un musical aveva una sua logica comunque ed era coerente e qui no qui non lo è e non ti dà insegnamenti sani comunque secondo me io non non saprei non avrei saputo dire altro però c'è uno psicologo che ho trovato un suo post che ha saputo riassumere benissimo quello che io penso di questo film recentemente ho visto in canto l'ultimo film della disney al centro della storia c'è la famiglia madre e ho pensato che fosse venisse trattato il tema della famiglia disfunzionale in modo corretto ahimè non è successo il film ha secondo me grossi problemi in relazione al messaggio sbagliato che costituisce non mi esprimo ovviamente in merito alla realizzazione del film in sé in merito alle musico ad aspetti propriamente cinematografici proprio perché non ne ho le competenze invece parlo dal punto di vista psicologico e terapeutico ribadisco il messaggio che manda è deleterio e pericoloso coerente con una cultura dominante di famiglia alla quale si deve sempre essere fedeli a prescindere il film sembra sposare l'idea per cui se non stai bene nella tua famiglia è perché il problema sei tu salvaguarda le adeguati al sistema familiare per com'è un'idea iatrogena dannosa personalmente ne sconsiglio la visione proprio per questo quotidianamente incontro pazienti che si sentono sbagliati relativamente alla loro famiglia e al contempo sentono la necessità di salvaguardare quel loro nucleo mentre il mondo intorno sembra che sono sembra diri che sono loro ad essere sbagliati ad essere delle minacce per la loro famiglia e loro finiscono per amare e odiare la propria famiglia volerla salvare e distruggerla amando se stessi proteggendosi ma al contempo odiandosi avvertendosi come pericolosi per la loro famiglia io sono totalmente d'accordo con quello che dice sinceramente non so ok stiamo parlando sempre di un film lascia il tempo che trova però secondo me sono parole giuste invece ho finito Mieruko Chan che era uno di quegli anime che avevo iniziato a vedere proprio quando uscivano gli episodi però per un insieme di cose poi non ho finito gli ultimi e si mi è piaciuto tantissimo mi fa morire da ridere non vedo l'ora di sapere se ci sarà una continuazione sinceramente e ho finito anche Blue Period come potete immaginare è un anime che mi tocca personalmente perché appunto faccio il liceo artistico e sono cioè ci mangio con queste cose quindi fa un po' strano vedere tutta la retroscena che c'è effettivamente dietro a tutte queste cose perché le cose effettivamente sono quelle l'unica cosa che mi ha lasciato molto what the fuck è che tipo spesso e volentieri va alla scuola preparatoria di pomeriggio sera e tipo fanno le opere lì lì e fanno soprattutto dipinti a olio vi svellerò un grande segreto non potete mai fare un dipinto a olio nel pomeriggio soprattutto quelle che fanno loro se vuoi fare un dipinto a olio in un pomeriggio probabilmente l'unica cosa che puoi fare è dipingere la tela monocolore forse ma neanche questa è l'unica cosa poi per il resto insomma va bene è tutto ok anche le prove quelle di tre giorni sei ore sei ore sei ore è vero è così anzi loro hanno non so se in Giappone sinceramente funziona così ma almeno per l'iter italiano c'è anche una relazione scritta da portare avanti insieme a tutto quest'iter progettuale insomma finiamo con Drag Race che io ho visto tutto mi sono fatta l'adoramento di scopri plus solo ed esclusivamente per Drag Race all'inizio praticamente io ho adorato è proprio un crescendo di emozioni a ogni episodio per me mi è piaciuto tantissimo tutta questa favolositudine sono bellissime erano tutte stupende la mia preferita è Electra e sono così tanto felice che abbia vinto cioè per me io la guedevo e facevo ma è bellissima cioè è proprio bellissima in generale cioè me compresa insieme a tantissimi altre signore se la sognano quella la grazia che hanno loro l'eleganza che hanno loro così naturalmente io davvero wow davvero affascinata fra gli episodi che mi sono piaciuti di più cioè quello ovviamente di Raffaella Carrà anche se io di Raffaella Carrà non so nulla io ascoltavo le canzoni tipo il Tuka Tuka io neanche lo sapevo che l'aveva fatto Raffaella Carrà vi devo dire la verità e quindi ero tipo no vabbè Raffa so lei non ci posso credere non l'avevo ormai nemmeno vista in faccia insomma invece mi è piaciuto comunque poi mi è piaciuto tanto anche lo Snatch Game dove si travestono le celebrità mi è piaciuto tantissimo le loro interpretazioni comunque mi ha fatto morire da ridere infine ho visto Oliver Twist sempre per scuola però devo dire che non mi è piaciuto tanto come film intanto non finisce come nel finale del libro finisce un po' prima io ho visto il film del 2005 e poi boh l'ho trovato un po' moscio non so se effettivamente sia perché gli eventi sono quelli oppure non lo so non lo so cogliamo questo habitat molto molto formale ovviamente con la mantellina per aggiungere che stamattina ho visto anche Barbie e la magia della moda un film bellissimo i film di Barbie sono uno un capolavoro più dell'altro chi dice il contrario mente e niente Barbie della magia della moda è uno dei miei preferiti guardatelo possibilmente grafica migliore lo trovate più è godibile non da ciò che ho letto ho letto i primi volumi 1 e 2 di Sweet Paprika e attendo con ansia gli altri perché io sono team Zatar mentre tutti gli altri di solito sono team Dildo io attendo sviluppi con Zatar in realtà poi ho letto entrambi i cofanetti non so se potete vederli 1 e 2 dietro Asuna di Sao Progressive io wow sempre ogni volta che leggo qualcosa di Sao mi si accende la fiamma di che bello Sword Art Online devo dire che mi sono piaciuti molto mi piace vedere il punto di vista anche di Asuna l'unica cosa che mi dispiace è che appunto narri fino alle vicende del terzo piano mentre mi sarebbe comunque piaciuto vedere anche l'innamoramento da parte di Asuna un pochino e infine ho letto anche se non ho finito perché i capitoli che ho trovato sono quelli Boys Abyss devo dire che è un manga molto depressivo però dove molte persone secondo me si potrebbero ritrovare io personalmente no sempre si può ricollegare sempre al tema della famiglia tossica ma in quanto paese in quanto nucleo dalla quale non puoi uscire anche se appunto non mi rispecchia personalmente comunque è stato molto coinvolgente e attendo con ansia i capitoli che devono arrivare insomma ho continuato ovviamente Mullet Lovers Root Nail vi consiglio di recuperarvi le root che stanno uscendo per ora sta uscendo oggi è uscito il primo episodio della root di Vladimir potete andarla a vedere e poi ho giocato e sta uscendo per ora l'episodio 10 di il Dario Nuera mercoledì uscirà la seconda parte quindi recuperate scivoliamo agli acquisti dove vi metto ora la clip potete vedere ho comprato questo Alicization Invading and Exploding poi i cofanetti di Progressive questo è questo questo è il primo non capisco perché abbiamo fatto tutto di colore diverso vi giuro suona tantissimo rispetto agli altri cofanetti e poi questo che è il seguito poi i volumi 28, 29 e 30 di Maira Academia con Variant per il 30 e poi tipo il 21, 22 e 24 di Domestic Girlfriend si mancano volumi però oggi si accontenta ed è giunto il momento della salsa del mese che questo mese 38, 89, 20 e niente anche questo buio boom on flip over è finito se il video vi è piaciuto mettete mi piace commentate condividete e iscrivetevi al canale e ciao a tutti